Negli ultimi quattro anni ho fatto principalmente a strato al torque, quindi in monotipo, calcografico, e togliendo il colore che appunto è una buona componente di mia scelta, tutto il resto viene comunque da lasciare che sia il materiale stesso a andare sul foglio o comunque sulla tavola. Quindi appunto lasciare che questo materiale vada con le sue gambe. Inizialmente facevo queste stampe perché fossero degli sfondi per dei quadri, quindi poi intervenivo ad olio, ad acrilico su questi sfondi per appunto dare del figurativo. E poi mi sono trovato che mi rappresentasse e che rappresentasse di più quello che volevo dire, solo inizialmente un cosiddetto sfondo e non volevo più intervenirci. Quindi dalla ho cominciato a lasciare che venisse fuori quella parte là senza voler controllare appunto. Non voler controllare questo materiale che stampavo, non voler controllare né la carta, né l'inchiostro, né appunto. Io utilizzo, tra virgolette, materiali inusuali che sarebbe dalla plastica, tessuti, zanzariere, buste della spesa. Quello là che inizialmente lavoravo le lastre di plexiglass con la nitro, con dei solventi che le squagliavano, le bruciavo in modo tale da ottenere determinate texture, determinati ambienti. E poi piano piano materiali che arrivavano più facilmente o che si avvicinavano di più a me, quindi magari pellicola da cucina che costa meno e ce n'è sempre in abbondanza, tra virgolette, o buste di plastica biodegradabili o zanzariere di scarto. Questa cosa qua appunto si è poi la spiegazione di tutto il libro. L'unica mia frase che dico in tutto il libro, cioè l'unica mia frase che dico di mia voce in tutto il libro è appunto la trama e la spiegazione che sarebbe sul retro del libro e non desidero essere di più di quanto non sono, ma a meno vorrei sottrarmi. Che è anche la spiegazione del mio estratto, non voler controllare, non avere... Comunque nel momento in cui ho concepito il libro non pensavo di dover raccontare tutto un mondo attraverso un semplice libro, o comunque dover dare tutto quello che potevo dire all'interno di queste tavole. E anche il rapporto con... penso soprattutto il rapporto con Ultrablu abbia dato questo input del libro. Perché appunto vedendo i ragazzi che lavorano, assurdamente che diventa più poetico lavorare per lavorare, dipingere per dipingere, come mangiare per mangiare... e l'ho trovato molto di ispirazione mentre facevo il libro, perché mi sono detto che comunque non dovevo ottenere per forza un prodotto che fosse oggettivamente bello o oggettivamente semplice da recepire. Quindi un posto come questo è stato in grado di farmi pubblicare un libro che ha una percentuale del 90% di astrati e basta. Ci sono nove figure in tutto il libro, penso. Per me è stata sia una grande soddisfazione che una liberazione da un punto di vista artistico, perché ho potuto dare a mio parere quello là che dovevo dire attraverso soltanto gli astratti. La storia è questa notte che all'interno di se stessa si rende conto di essere una notte come tante, di essere una notte qualunque. e quindi appunto ho creato questo personaggio che voleva avere le proprie idee, le proprie opinioni e un proprio pensiero che esprime attraverso la storia. Per quello dicevo prima l'unica frase che dico di mia voce è quella della trama e della spiegazione. Perché tutte le altre frasi sono scritte, tutti gli altri testi sono scritti al femminile, appunto per far capire che è questa notte che parla e non io per lei. E' stato anche quello un procedimento di sottomissione perché grazie a questo ho potuto dire quello che magari anche io non penso. E' stato un procedimento particolare perché comunque io ho tutte le tavole, le ho realizzate qui a ultra blu e tutti gli scritti casualmente li ho scritti di notte a Berlino. Perché il colore prevalente è il blu di Prussia dove in chimica, in tedesco è chiamato anche Prussische Blau e Berliner Blau. Quindi il cielo di Berlino, il blu di Berlino perché la tonalità del cielo berlinese appunto è quella del blu di Prussia. Inizialmente facevo delle foto a soggetti comuni e volevo appunto riprodurre questi soggetti e poi in pittura. Poi mi sono trovato a riprodurli sempre in calcografia e volevo soggetti che non conoscevo. E quindi ho cominciato a riprodurre da foto, da video, da film, da quello che trovavo e tutte quante le tavole di torpore vengono dallo stesso soggetto praticamente. Da un unico video che io appunto ho voluto riprodurre. Infatti tre delle donne all'interno sono lo stesso soggetto nella stessa posa. E soltanto con il cambio della luce esce fuori una personalità diversa o comunque un'energia diversa all'interno del libro. Perché una è messa all'inizio della storia, una alla fine e una centrale. Come appunto il libro è tutto quanto incentrato sul cambiamento cromatico di una notte. Quindi della notte che io considero la notte vera, che è quella là che va dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina. Quindi dal buio, tra virgolette, un po' più totale fino alle prime luci dell'alba. Infatti il libro è tutto quanto scontornato in nero e all'ultima pagina diventa bianco, che è l'unica tavola che rappresenta il giorno. C'è un cambiamento drastico perché appunto nel momento in cui questa notte muore, che è questa figura che ho descritto della notte, si ribella al suo destino. Non lo accetta, fino alla fine del libro non lo accetta. Infatti anche in scala cromatica ho usato il viola alla fine e il rosso per esprimere uno la frustrazione e l'altro la rabbia. Perché inizialmente si sottomette la notte a questo suo, tra virgolette, destino e poi però comunque non lo accetta. Infatti l'ultima immagine che si ha prima che si spenga nel giorno è comunque un'immagine di rabbia. Devo dire serenità e tranquillità. C'è un modo per svuotare la testa appunto. In questa sottomissione c'è anche non voler controllare il materiale significa non stare a pensare di come il lavoro dovrebbe venire o come dovrebbe essere, se dovesse essere più bello di quello là che potrei fare io, come controllarlo in qualche modo. Quindi questa sottomissione mi fa anche stare bene, mi fa tranquillizzare, diciamo, è anche comunque una terapia personale per riuscire a, tra virgolette, a stare più con la testa sgombra, più con la mente sgombra. Come ho detto prima appunto questa loro arte cruda, questo non voler mai apparire in qualche modo mi ha portato anche a scrivere appunto questa frase, non voler essere anche io in quella parte là, non voler dare il bello, il meglio di me, ma soltanto appunto essere e fare un'arte non canonizzata tramite questo pensiero del bello, questa ricerca. Gli outsider mi hanno fatto appunto vedere questo, secondo me. Mi hanno condizionato nel restare, tra virgolette, più crudo in quello che faccio, non cercare di arrotondare questa forma. Grazie a tutti.